Ciao a tutti ragazzi e ragazze, volevo dirvi una cosa, ieri vi ricordate vi ho detto del codice creatore Allora sono stato due giorni a creare questo codice creatore che non riuscivo a procedere Allora ho fatto dalle 6 di pomeriggio fino alle 5 di mattina a cercare di procedere con queste cose Finalmente ho trovato una persona che mi ha aiutato a accettare tutti i termini per procedere Comunque ragazzi i termini sono tantissimi perché sono sia inglese che italiano Devi scegliere se sei inglese o se sei italiano Quindi ragazzi quando lo fate io vi consiglio se volete fare un codice creatore di parlare con qualcuno che già lo ha creato E' qualcuno che l'ha creato e lo sappia fare a modo per bene Comunque alla fine siamo arrivati al punto che non riuscivo a mandare i termini Perché c'era scritto licenza governativa dovevo mandare della roba E c'era scritto estratto conto della carta di credito Finalmente ho mandato l'estratto conto della carta di credito Dove ci deve essere anche la via di casa se no non te l'accettano Ho messo tutto e finalmente è stato accettato Il mio nome codice creatore è NicoLiv1 Finalmente NicoLiv1 ha il suo proprio codice creatore Ragazzi e ragazze mi raccomando usate tutti questo codice creatore NicoLiv1 Vi ringrazio a tutti Ciao a tutti Da NicoLiv1